In una intervista a chi, Albano torna a parlare della figlia Elenia Carrisi. Un dolore immenso, quello subito dal cantante e dalla madre della ragazza, Romina Power. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Albano definisce la scomparsa della figlia come il dolore più grande della mia vita e poi sembra chiudere la porta alla speranza di rivederla, so che è in paradiso e la raggiungerò. A ipotizzare che la figlia fosse ancora in vita era stata Romina. A gennaio la cantante aveva pubblicato due foto insieme alla figlia chiedendosi dove fosse. Col nuovo non mi chiedo ancora una volta dove Elenia? Aveva scritto sui social. In una seconda immagine c'era invece solo il volto di Elenia e al cui domande, dove è finita Elenia? E dove sono finite le centinaia di ragazze scomparse a New Orleans? Il dolore in fondo è ancora troppo grande. Elenia Carrisi infatti è scomparsa nel 1993 a New Orleans. Ormai 24 anni di speranze infrante e un amore che però non finisce mai. Solo un anno fa un tribunale italiano ha dichiarato la morte presunta della ragazza, ma Romina continua a combattere nella speranza di poterla ritrovare. Sogno che Albano, invece, sembra aver abbandonato. Intanto la coppia di cantanti è tornata alla ribalta della cronaca rosa dopo l'addio di Albano a Loredana Lecciso. Oggi il cantante si dice felice, ma non è stato un periodo semplice. Il nostro legame è indissolubile, aveva detto qualche giorni fa Romina facendo riaccendere la fiammella di speranza in chi non si è mai rassegnato alla fine della loro storia.